Ore di grande attesa, giorni di grande attesa e di grandi previsioni per un nuovo crocevia Milan-UEFA. Negli ultimi 30 anni spesso la massima istituzione calcistica europea e il Milan si sono ritrovate allo stesso crocevia. La storia non è mai un esercizio stucchevole ma è sempre utile per capire poi a livello di situazioni che cosa è accaduto per recuperarlo alla memoria, perché nella memoria non è mai un esercizio sterile, semmai lo è per chi non ce l'ha, ma per chi ce l'ha può essere sempre utile. E poi per capire dopo lo snodo che cosa è accaduto. Negli ultimi 30 anni, dicevamo, partiamo ad esempio dal marzo del 1991 quando la UEFA squalificò il Milan per un intero anno dalle Coppe Europee, sanzione dura ma che venne accettata dal Milan per quanto accaduto al Velodrome durante il quarto di finale ritorno di Coppa di Campioni contro il Marsiglia di Odell e compagni. All'andata al Milan aveva pareggiato in casa San Siro 1-1, poi al ritorno il gol di Odell portò alla qualificazione il Marsiglia, il Milan fece tesoro di quell'esperienza, dei Lampioni, della squadra ritirata, di Enrico Sacchi che guarda sconcertato quello che accade, ne fa tesoro, accetta in cassa e usa quell'anno fuori dalle Coppe Europee per vincere da imbattuto il campionato 91-92. Con il primo anno di Fabio Capello sulla panchina rossonera, la stagione 91-92, senza fare le Coppe Europee, il Milan gioca il campionato e lo vince per distacco senza perdere nemmeno una partita e arriva poi anche in semifinale di Coppa Italia. Un paio d'anni dopo Milan e UEFA si ritrovano indirettamente coinvolte nella stessa vicenda, perché nel maggio 1993 il Milan perde la finale di Coppa dei Campioni a Monaco di Baviera contro sempre l'Olympique Marsiglia, gol di Basil Bolli, c'era anche Marcel Desailly che giocava con i francesi pochi mesi prima di raggiungere il Milan a Milano e in quella circostanza venne poi appurato dopo la finale di Coppa dei Campioni vinta dal Marsiglia contro il Milan che il Marsiglia in campionato, nel campionato francese, nella Ligue 1, aveva barato. Aveva barato, aveva falsato una partita con il Valenciennes, per cui il risultato della gara non venne cambiato. Il Marsiglia rimane nell'Albodoro come squadra vincitrice di quella Coppa dei Campioni, ma la squadra francese viene squalificata dalle finali successive della stagione 93-94, ossia la finale di Coppa Intercontinentale che il Milan poi perse nel dicembre 93-3-2 contro il San Paolo di Marcos Cafu e la finale di Supercoppa Europea, un'altra sconfitta che il Milan usa, che il Milan perde col Parma, 1-0 per i Rossoneri all'andata al Tardini, 2-0 per il Parma al ritorno a San Siro con reti di Sansini e Crippa. Milan usa quella partita, Fabio Capello usa quella partita per sdoganare definitivamente Savicevic che opportunamente motivato, opportunamente titolare, trascina il Milan da quel momento in poi alla vittoria sia dello Scudetto 93-94 che della Coppa dei Campioni nella partita del secolo del 18 maggio 1994 ad Atene contro il Barcellona, in quella stagione 93-94 il Milan aveva vinto tre trofei, la Supercoppa Italiana, lo Scudetto e la Coppa dei Campioni. Di lì a poco un altro episodio, qui invece è diretto, tra virgolette, lo scontro fra Milan e UEFA. Nella prima giornata della fase a gironi di Champions League si disputa la gara fra Milan e Casinò-Salisburgo. Si gioca a San Siro, è una serata importante, naturalmente come tutte quelle di Champions League che vengono disputate dai giocatori rossoneri, dalla squadra rossonera, e una bottiglietta colpisce il portiere austriaco Conrad che prima sviene, poi gioca, poi insomma una vicenda un po' controversa. Fabio Capello alla fine della partita se la prende anche un po' con quelli che a suo giudizio erano i Leon Cavallini presenti nella curva rossonera. Ma al di là di questo aspetto della vicenda, il risultato del campo non viene cambiato, rimane 3-0 per il Milan ma vengono tolti al Milan i due punti. I due punti della vittoria contro il Casinò-Salisburgo per 3-0 del Milan vengono tolti per cui il Milan deve lottare fino all'ultima giornata, cosa che poi accadrà per conquistare la qualificazione al turno successivo. erano i quarti di finale all'epoca, il turno successivo di Champions League dopo i gironi. Milan poi avrebbe giocato il quarto di finale contro il Benfica, 2-0 a San Siro con una grande parita di Marco Simone, di Giovannino Stroppa e 0-0 al ritorno. Il Milan avrebbe conquistato poi quella qualificazione nell'ultima giornata. Il Prater di Viena, sempre con il Salisburgo vincendo 1-0 con un gol di Massaro, la partita dopo la quale Zeman polemizzò con Capello su quelle barricate e si è consumato lo spirito del Milan. Invece il Milan in quel momento aveva bisogno di tirare il fiato, di rinserrare le fila e Fabio Capello non si vergognava affatto di portare a casa un 1-0 importantissimo per poi proseguire la sua strada fino alla finale di Coppa dei Campioni che si sarebbe giocata in quella stessa stagione, anche se nel 1995, al Prater di Viena contro l'Ajax. Per molti anni poi non accade più nulla fino all'estate dell'estate, l'estate del 2006 quando l'arancia meccanica di Calciopoli danneggia il Milan sia in campo che fuori sia durante le stagioni giocate sul campo che poi nelle sentenze estive e alla fine, per non farla lunga e per non scatenare troppi commentini su Calciopoli perché non è questo lo spirito, il Milan a fatica e soltanto grazie, questo va ricordato, all'intervento proprio di Guido Rossi riesce a essere qualificato comunque per i preliminari di Champions League dell'estate del 2006. Il Milan era arrivato secondo con 88 punti, la penalizzazione di 30 punti del Milan lo portò a 58, comunque terzo in classifica, quindi nel pieno diritto di giocare i preliminari. Il Milan non venne penalizzato per più di 30 punti perché nella scala di giudizio della Corte d'Appello federale di quell'estate il Milan aveva commesso una colpa inferiore a quella della Lazio per cui se la Lazio fosse stata penalizzata di altri punti sarebbe retrocessa in Serie B, non era quella la penalizzazione che si voleva infliggere alla Lazio per cui tutto modulato e il Milan si ferma a una penalizzazione di 30 punti. Diritto a partecipare ai preliminari di Champions League, la UEFA fa delle eccezioni, si impegna la Federcalcio italiana, il commissario straordinario Guido Rossi si impegna a fondo in quella circostanza per far sì che il Milan essendo al terzo posto potesse partecipare i preliminari di Champions League, cosa che accade contro una stella rossa molto più fresca del Milan con i giocatori del Milan rientrati in fretta e furia dalle vacanze che riescono dopo una gara d'andata molto faticosa a San Siro a vincere 2-0 al Maracana di Belgrado la partita di ritorno. La soddisfazione del Milan in quella circostanza fu che dopo una lettera comunque d'accusa di warning della UEFA nell'agosto 2006 contro il Milan, nel maggio 2007 dopo la conquista della settima Champions League da parte del Milan ad Atene contro il Liverpool in 23 maggio 2007 ci fu una lettera d'encomio da parte della UEFA proprio del presidente Platini che è tornato di stretta attualità suo malgrado e ci spiace per lui in questi giorni, di encomio al comportamento del club, al comportamento dei suoi giocatori dirigenti e al comportamento dei propri tifosi in occasione della finale contro il Liverpool, quindi in quella circostanza poi le cose si aggiustarono del tutto a favore del Milan pur partendo da una posizione sportiva e politica molto dura e molto difficile, molto controversa nei confronti della UEFA. Poi le ultime vicende, questo strascico degli ultimi anni, la scorsa stagione prima l'esclusione del Milan dall'Europa League e poi la riammissione del TAS fino naturalmente al groviglio di trienni che si è creato e per il quale adesso tutti i tifosi rossonieri e tutti i media sono in attesa di nuove comunicazioni o da parte del TAS di Lozana o da parte della in attesa delle febule. Uh huh huh one Core One